Design per il benessere nei luoghi di lavoro, altro workshop organizzato da Action Group il 14 novembre 2013 presso il Centro Congressi Torino Incontra di Vianino Costa 8 a Torino. Organizzato in collaborazione della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Torino, il workshop vede riconosciuti sei crediti formativi dell'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Torino e due crediti formativi dal Collegio dei Geometri di Torino e provincia. La Bertelotto Porte è un'azienda di Torre San Giorgio a metà strada fra Cune e Torino, è un'azienda che quest'anno copia 25 anni, è un'azienda che è specializzata nella produzione di porte per interno. È un'azienda che ha al suo attivo 22 collezioni di porte suddivise per varie tipologie, per rivestimento e per la propria ambientazione che poi si andrà a fare. Quindi nel caso specifico della giornata odierna anche una sezione della nostra produzione che è dedicata a un discorso di arredamento di ufficio con vari moduli, varie proposte. Il mio intervento sarà focalizzato proprio per presentare questi modelli che si adattano a un discorso di arredamento di ufficio, soluzioni varie che proponiamo con la classica flessibilità che contraddistingue la nostra produzione. Questi eventi sono molto importanti perché chiaramente ti permettono di dare visibilità al marchio, alla tua produzione, a presentarci a questi professionisti che chiaramente poi ci auguriamo che utilizzeranno le informazioni e i dettagli che vengono spiegati durante la giornata per i loro lavori futuri.